Sesso in cambio di una dose di cocaina, la disperazione della dipendenza che porta ad annullarsi pur di soddisfare il bisogno di droga. La ragazza di 23 anni lunedì è arrivata dalla bassa padovana al Tempio della Pace, poco lontano dalla stazione di Padova. Qui è incontrato lo spacciatore, un 34enne nigeriano. I due si sono allontanati e si sono nascosti in un pertugio poco lontano dalla chiesa dove si è consumato il rapporto pagamenti natura per un grammo di cocaina. Ma questa volta per il pusher sono scattate le manette perché è stato scoperto dagli agenti della squadra mobile in Borghese impegnati in un servizio antidroga che hanno visto tutta la scena. La ragazza è stata multata in quanto assuntrice. Ieri lo straniero ha patteggiato tre anni per spaccio aggravato dal fatto di voler prestazioni sessuali da una persona tossicodipendente. Lo spacciatore tuttavia è stato scarcerato ma per lui è stato disposto il divieto di dimora in Veneto.